ci siamo una bella camminata, una bella sudata siamo carichissimi, oggi è Mavencio prendiamo i 3 punti, superiamo il Cagliari e andiamo a meno 1 Venezia, hai tanta roba, carichi, carichi Vai Vai Lui, vai, vai Vai Lui NUMERO SENTENTADUE, BIN, BELLET NUMERO DUE, MAMADU, TULIPANI NUMERO SEI, STEFAN CON IL NUMERO SETTE, FRED NUMERO 15, SETI, GONDO NUMERO 18, LASANA, CULIPANI NUMERO 19, LUCA, RENZI NUMERO 20, GRIGORI, GASTANOS NUMERO 23, NERVE, GONBE CON IL NUMERO 25, NUANCO, STEVI CON IL NUMERO 31, RICCARDO GARRIOLO L'ARENATORE, FATRICIO GASTANI bregiamo giù VALENTIN' sempre a grande effetto Arbitro in pieno Nooo 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 Pondamino Dai No Dai Dai Dai, non farei di meglio. Peccato, abbiamo pensato probabilmente il migliore della squadra, Coulibaly. È morto, non è morto. Peccato. Meno male, non è morto. Però brutto l'avevo vista. Fine, fine. Fine primo tempo. Allora, non una gran partita per il momento. Non una grandissima partita. Abbiamo avuto occasione di dichiaro. Il tiro di Liberi, Cagliolo, poi, sta l'occasione un po' più importante. Loro manco più di tanto. Non hanno praticamente tirato. Tu hai un paio di ripoveri, forse questo qui alla fine. Mentre il che, un po' che sostiene il gioco, si è rotto Coulibaly. E quello è un problema Coulibaly, perché non sono più forti forse. E pure l'altro Coulibaly, probabilmente. Però dai, forse, dai, giudiamo. Ci sono fondamentali oggi. Et quissi, dai. Valla, valla, valla. 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 Grazie a tutti. 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 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero. Si soffre, non dobbiamo soffrire. Velez, 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 mi ha fatto pure male, si è fatto. Tutto solo, tutto solo, tutto solo, tutto solo, tutto solo, è andato a prendere questa palla, vedo male. E' importantissimo, veramente importantissimo, veramente importantissimo. Questa è un'acquario. Fondamentale, veramente importantissimo, vittoria in casa con il Gena. Questa è un'acqua. 1-0. 1-0. E abbiamo perso, purtroppo, la sana Goulibaly e Mamadou Goulibaly, ma comunque parleremo della partita meglio sicuramente domani. Nella reaction a freddo, se volete una reaction a freddo, mi raccomando, sotto questo video, ragazzi, superiamo i 150 like, come sempre, come sempre sotto la reaction, superiamo i 150 like. Iscriviti al canale perché è fondamentale, se arriviamo a 3.000 iscritti stasera, che dite, o comunque nei prossimi giorni, iscriviti al canale perché è assolutamente fondamentale. Siamo al 2.900, dobbiamo arrivare a 3.000 iscritti il prima possibile. Dai ragazzi, mi raccomando, grazie alla visione, vi auguro una buona giornata a tutti, sempre Forza Salernitana. E fatemi sapere con un commento la vostra partita preferita fino ad ora. Ciao ragazzi.